Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, anche oggi di venerdì con una location esotica perché infatti i più attenti magari sapranno che sono a Milano per alcuni appuntamenti, Games Week e Vali, infatti se domenica siete in fiera mi troverete, però come al solito non potevo esimermi perché come ogni venerdì è uscita la nuova promo, ovvero quella dei Numbers Up, una promozione che va a incidere sul cuneo e statistiche dei giocatori in base a quelle che sono le scarpette che questi indossano, per la gioia del maestro che in questo momento è sdraiato sul letto ma è in ascolto. Allora, andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i giocatori, si tratta di Hummels, Rice, Di Avaraggio, Aofelix, Yota, Reina, Reguillon, Dembélé, Terstegen, Militao e Nehaus, ma prima di analizzarli per bene volevo spiegarvi nel dettaglio come funziona la promo, ovvero le tre scarpe che influenzeranno la situazione dei Numbers Up sono le Adidas 6 e i giocatori che le indossano sono Yota, Reina, Felix, Dembélé e Reguillon e questo andrà a boostare quella che è la velocità dei giocatori. Abbiamo poi i giocatori che indossano le Predator, ovvero Militao, Nehaus e Terstegen e questo vuol dire che andrà a boostare dribbling e nel caso dei portieri la presa. E poi abbiamo le Copa, ovvero i giocatori che indossano sono Di Avarà, Rice e Hummels e andranno ad avere 99 di passaggio durante il corso della stagione. Infatti, durante il corso della stagione i giocatori dei Numbers Up avranno quella statistica influenzata dalle scarpette che arriverà a 99. Ovviamente ci dice che anche le altre statistiche sono state boostate ma in maniera minore. Ci sono poi tutta una serie di FAQ che so che già andrete a chiedere nei commenti che però sono presenti all'interno dell'articolo principale e ci dice che appunto l'upgrade funziona sulla base di quello che è la scarpetta indossata. Quando va ad avvenire effettivamente il boost ci dice che dopo un iniziale upgrade il 12 novembre il secondo upgrade ci sarà alla fine di dicembre e il terzo ci sarà nel 2022. I giocatori andranno a prendere l'upgrade anche se sono infortunati o non giocano? Assolutamente sì. Il rating non salirà a 99. Cosa succedere se un giocatore all'improvviso non è più partner di Adidas? Se un giocatore cambia quella che è la sua scarpetta e passa a un altro brand questo non succede nulla. Comunque va a boostare la statistica interessata. Quindi questo è come funziona la promo in generale. Ma passiamo a vedere quelli che sono i giocatori di questa fantastica promo. E il primo è Asensio che è una SBC e come potete vedere il suo boost riguarda il dribbling. Quindi già al momento si ritrova un più 8, ha anche un più 4 di velocità, un più 2 di passaggio, un più 1 di tiro, un più 2 di fisico e un più 1 di difesa. È un giocatore che ha 4-3 quindi già un po' una nota stonata quella del 3 di piede debole. Quindi non proprio che mi fa impazzire considerando che è una carta non scambiabile. Sì per carità è veloce ma non così tanto. Ha un discreto tiro ma la finalizzazione che lo penalizza è abbastanza agile. Pecca un po' per quanto riguarda il discorso della stamina ma soprattutto dell'aggressività con 46. Ha dei passaggi discreti. Onestamente considerando anche quella che è l'ibridabilità di sta carta non l'andrei a sbloccare così su due piedi. Considerando che ci avviciniamo al Black Friday che è una promo che di solito di SBC golose ne rilascia veramente tanto. Abbiamo poi Ter Stegen che come vi dicevo andrà ad avere il 99 nell'handling quindi nella presa durante il corso della stagione. E insomma questa è una carta che qualora si riesce a linkare come ogni anno Ter Stegen sicuramente si afferma tra i migliori portieri del gioco. Velocemente poi passiamo su Hummels, altro giocatore che si è beccato. Un bel boost però in passaggio quindi una statistica abbastanza inutile. E onestamente non mi ci soffermerei più di tanto considerando che a 60 di velocità insomma scu' un gioco dove si va solamente di palle lunghe e filtranti questo parla già per sé. Arriviamo al vero primo top player di questa promozione che è Joe Felix ovvero boost più grosso se l'è preso in velocità. Altri boost significativi comunque abbiamo il più 5 di tiro, il più 5 di passaggio, il più 4 di dribbling e il più 5 di fisico. Con statistica che arriverà a 99 quella della velocità questo sicuramente si candida ad essere veramente un giocatore interessante perché mancava un po' un giocatore del genere in liga soprattutto nel caso in cui si voglia mettere a fare anche la prima punta, la seconda punta perché ha 5 di skill e 4 di piede debole quindi ha anche un ottimo tiro, i passaggi pecca un po' in quello che è il lungo, è molto agile anche in questo caso la stamina è giusto al pelo con 80 però questo sicuramente da tenere d'occhio anche perché da magari dei link interessanti, penso a Marco Stiorente eccetera poi è portoghese, è molto versatile quindi Joao sicuramente promosso ma come a tutte poi queste carte vanno ovviamente provate. Andiamo a vedere di clan Rice che si è beccato un significativo boost in passaggio qui permangono tutta una serie di problemi magari in velocità eccetera eccetera nonostante il più 9 però devo dire che la carta non è malvagia la cosa è che Rice si va a inserire in un discorso dove a centrocampo veramente c'è un'infinità di carte che sono buone già in Premier League ma comunque anche in altri campionati, penso a Fofana, penso a che sì eccetera quindi non so quanto possa convenire andare a prendere questo Rice infatti anche il price range testimonia che insomma stiamo parlando di una carta abbastanza average considerando che comunque parliamo un giocatore con 2 di skill e 3 di piede debole quindi veramente uno che deve solamente fare la legna a centrocampo però ha 55 di agilità e 63 di equilibrio quindi non potete neanche utilizzarlo con le L2 per essere rapidi e recuperare troppi palloni quindi boh onestamente è una carta che non mi dice nulla cosa che invece non accade per Diogo Iota perché sto Diogo Iota si è beccato un bellissimo upgrade in velocità arriva a 91, continuerà a prendere upgrade in quella statistica e in più si è preso delle ottime stazze anche in tiro, passaggio, dribbling, difese e fisico considerando che come esterno sinistro in Premier c'è Varietà, c'è Son, c'è Mané però questo qua considerando che è un 4 di skill e un 5 di piede debole ed è molto più agile dei due giocatori che vi ho menzionato in precedenza sicuramente è un giocatore da tenere sott'occhio perché tralasciando un po' i passaggi che sono un po' esotici però ha un ottimo tiro e come vi dicevo agilissimo ha anche un'ottima aggressività, ha stamina quindi si può giocare tranquillamente da COC lo potete giocare da esterno, tranquillamente da seconda punta perché si gira molto bene in aria quindi occhio a Sto Diogo Iota perché è un ottimo giocatore da valutare però il prezzo perché potrebbe essere un po' aipato passiamo ad Amadou Di Avarà che si è beccato un più 10 in velocità e un più 16 in passaggio che se è la statistica interessata alla promo quindi anche in questo caso Di Avarà purtroppo c'è tutta una serie di competitors anche in Serie A penso a Chessi, penso a Barella, penso a Vidal e infatti il prezzo è assolutamente un prezzo da carta che andrà a scarto e non è una giocatore utilizzabile più di tanto anche perché parliamo di un 3-3 con un 1,83m in questo caso sia un po' più agile rispetto a quel Rice però ci sono alternative talmente troppo più valide di Avarà che onestamente non mi sentirei di consigliarlo andiamo a vedere Giovanni Reina e anche qua parliamo di una carta che sarebbe molto buona se non fosse per questo 2 di piede debole in Bundesliga non è la prima carta buona ma penalizzata al piede debole se pensate a Di Aby quindi onestamente anche qua considerando che si tratta di un giocatore che poi addirittura statunitense viene meno quello del discorso relativo all'ibridabilità si è beccato un più 12 in velocità e un più 10 in passaggio per carità di Dio e anche un più 9 in tiro però onestamente non ci vedo questa gran carta addirittura abbiamo un 77 di finalizzazione passaggi che non sono così eccellenti è proprio quel classico giocatore che vorrebbe ma ahimè non può ottimo giocatore invece Reguillon che si è beccato un più 5 in velocità più 3 di tiro più 3 passaggio più 3 fisico più 3 difesa più 3 di dribbling quindi parliamo di un giocatore che sicuramente si candida per essere il terzino sinistro che mancava in Premier League perché tolto Robertson e Robertson speciale non c'era niente di che al momento quindi questo qua sicuramente è molto molto buono considerando che c'ha soprattutto anche stasi difensivi interessanti un 79 di aggressività un 89 di stamina pecca un po' in forza però il 77 di equilibrio unito al fatto che un giocatore comunque dal bari centro basso un po' fa recuperare sulla questione quindi questo è da tenere d'occhio e magari da provare Eder Militao anche qua giocatore che non ha bisogno di presentazioni si è beccato più 2 in velocità addirittura più 9 in dribbling molto 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 inutile certo il più 2 di velocità comunque si fa sentire arriva a 85 come può essere magari un Tomori One to Watch eccetera però al momento questo qua va provato per vedere se effettivamente questo aumento statistico si fa sentire o è solamente una roba di facciata perché anche per Militao insomma è un po' penalizzato quest'anno da libri di abilità anche se si potrebbe fare Mendimilitao però anzi in realtà no perché si potrebbe fare Mendimilitao Marchinius quindi per libri di abilità non sarebbe un problema sarebbe da testare per vedere se effettivamente l'aumento che ha avuto è veritiero anche se questa è una carta che secondo me andrà a ipata e quindi non costerà pochissimo inizialmente soprattutto poi abbiamo Moussa Dembele del Lione che si è preso più 11 in velocità questa è una carta che insomma anche qua non ha bisogno di troppi commenti perché è un 3-3 di un metro e 83 con 91 di forza classico giocatore tronco classico giocatore che non può andare in fascia perché è molto limitato che non mi sento di consigliarvi assolutamente così su due piedi e concludiamo con il buon Neuhaus che però mi sa che non è questo ma sarà tipo quest'altro perfetto mi sa che è il fratello bo gemello centrocampista che però come potete vedere ha preso l'aumento significativo delle stats nel dribbling persiste quel 66 di velocità e parliamo di un campionato della Bundesliga dove abbiamo magari Zagaria dove abbiamo Koretzka Kimmich per cui questo insomma veramente è una carta inutile che hanno piazzato giusto per fare da fodder all'interno di questa promo quindi regà niente abbiamo analizzato brevemente come funzionerà la promo dei Numbers Up abbiamo visto quelli che sono i giocatori più interessanti vi ricordo che poi queste carte ovviamente le testeranno il mon maestro già si sta leccando i buff anzi freme che in questi giorni siamo a Milano e quindi non le può testare io vi ringrazio per la visione vi ricordo che in descrizione trovate tutti quanti i link per partner eccetera piattaforma viola per le live io vi saluto vago una buona giornata se ci siete al Games Week ci vediamo domenica è nulla salutone a Liberoschi ciao